Si avvicina la solennità in onore di San Francesco di Assisi e siamo in compagnia del parroco Don Carlo Pisani che ci illustrerà il programma dei festeggiamenti. Sì, siamo alla vigilia della novena di San Francesco che inizierà il prossimo 25 settembre alle ore 17.30 la recita del Santo Rosario nella Chiesa del Santo e poi alle ore 18 la celebrazione dell'Eucaristia che il giorno 25 sarà preseduta da Don Orlando uno dei due sacerdoti che da poco sono stati ordinati dal nostro Vescovo. Mentre il giorno successivo, il 26, avremo il piacere e l'onore di avere tra di noi a presiedere l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Felice Acrocca, arcivescovo di Benevento, che poi alle ore 19, quindi terminata la celebrazione dell'Eucaristia, nell'ambito del settembre culturale, quindi in collaborazione col Comune, presenterà qui a San Francesco il suo ultimo volume, edito dalla libreria editrice Vaticana, Francesco ieri ed oggi. Monsignor Acrocca è attualmente riconosciuto tra i massimi esperti di San Francesco e Francescanesimo. Da 30 anni si dedica a questi studi, prima ancora che il Santo Padre lo chiamasse poi al servizio episcopale. I giorni successivi, quindi dal 27 fino al 30, seguiremo sempre lo stesso schema, quindi ore 17 e 30, l'Osario, ore 18, Santa Messa e Novena. Mentre il giorno primo ottobre, come ormai da consolidata tradizione, celebreremo la Santa Messa a Via San Francesco e da lì procederemo verso la Chiesa del Santo per la cosiddetta Marcia della Pace, che quest'anno però abbiamo voluto anche intitolare Marcia della Pace e per la cura del creato, visto che uno dei temi più attuali oggi è quello dell'urgenza di trattare il creato, di avere rispetto del creato. Il giorno 2, sempre qui a San Francesco, al termine della Santa Messa, ci sarà la benedizione dei nonni e dei nipoti perché il giorno 2 è la festa dei Santi Angeli Custodi dedicato ai nonni. Poi il giorno 3, vigilia della festa, rievocheremo al termine della Santa Messa il transito del Santo, quindi leggeremo i testi che raccontano della morte di Francesco, avvenuta proprio la sera del 3 ottobre. Sempre quella sera, alle 20.30, presso il Cineteatro di Filippo, l'Associazione Arcobaleno, riproporrà la sua versione di Forza Venite e Gente già messa in scena presso il Castello Angeli Aragonese. Poi il 4 ottobre, giorno della festa del Santo, al mattino ci saranno tre celebrazioni eucaristiche, alle 7, alle 8.30, alle 10, a termine della celebrazione delle 10, poi sul piazzale antistante della Chiesa, ci sarà la benedizione degli animali. Al pomeriggio, alle 18, quindi abbiamo anticipato rispetto all'anno scorso di circa mezz'ora, la Santa Messa che sarà presiduta dall'altro novello sacerdote, Don Antonio De Marco, e poi seguirà la processione con l'immagine del Santo per le vie cittadine.